La figlia di Albano e Romina, Christel Carrisi, ha preso una decisione definitiva. Non ha intenzione di tornare indietro. Quello di cui stiamo parlando oggi, riguarda la decisione di una delle figlie di Albano Carrisi. Si tratta di Christel Carrisi, avuta con l'ex moglie Romina Power. La giovane donna ha scelto che era il momento di dare un taglio netto e, a quanto apre, non ha proprio intenzione di ritornare sui suoi passi. Ma cosa riguarda questo camp? Nata nel 1985, e molto apprezzata dal pubblico e dagli amanti dello spettacolo, è la secondogenita della coppia di grandi artisti. Nel suo curriculum, Christel ha mosso i suoi passi come modella e cantante senza però lasciarsi scappare qualche esperienza come conduttrice in tv. Anche lei, come mamma e papà, si è creata una carriera brillante nello showbiz. Tra le sue comparse in tv, non possiamo certo dimenticare il docu reality Casa Carrisi. Ma la sua vita professionale si rispecchia anche in altre opportunità che ha saputo cogliere al volo quali cucina Christel. Lo zecchino d'oro e top tutto qua noto fa tendenza per nominare le più recenti. Nel 2013 è l'inviata. Con il padre e Romina Junior. Di Mission ed è stata coach e caposquadra nel talent show La Pista. Christel Carrisi sceglie di dire addio e l'abbandona. La sua vita privata ha trovato poi l'amore di un uomo. L'imprenditore cileno-croato Deyvor Luxik. Hanno celebrato le loro nozze a Lecce. Il 3 settembre del 2016. Hanno poi coronato il loro amore con la nascita di tre splendidi figli. Kate Iron nel 2018. Cassia Ilenia nel 2019 e Rio Ines nel 2021. Dopo la pandemia che, ovviamente ha dato del filo da torcere agli spostamenti, i due sono rimasti lontani. Inoltre, sul web, hanno iniziato a girare diverse voci che avrebbero messo un punto di domanda sulla loro relazione. Una crisi ha messo in pericolo l'amore tra Christel Carrisi e Deyvor Luxik. Molto probabilmente, dato le numerose indiscrezioni parlavano di un problema e la fine del matrimonio. Christel ha preso una decisine definitiva. Ha chiuso il suo profilo Instagram per sé. Oramai è chiaro come. Già con il suo trasferimento in Croazia. La giovane abbia sempre di più voluto allontanarsi dalle luci dei riflettori nonostante fosse molto attiva anche suoi social. Nasce però un dubbio recentemente. Grazie ad una condivisione di Romina Junior, alcuni fan hanno notato un tag particolare. A quanto pare, questo, rimanda ad un profilo privato che sembra appartenere alla stessa Christel Carrisi secondo alcuni utenti. Per il momento il matrimonio è salvo. Oppure c'è dell'altro? Per il momento il matrimonio è salvo.